Parte la gara, una squadra che può puntare certamente a un campionato di vertice Presenta Caso Naturale, giocatore più importante, subito l'ammunizione per Billoncino Monti Rezio parte, tiro e spiazza il portiere Derrico Palla in aria, tesa, buona gol! Gol di Sogliuzzo Porta palla, la da Sogliuzzo che ha spazio, avanza, può anche tirare Lo fa, parata del portiere Per Caso Naturale, va in dribbling, giocatore di grande qualità Sorrentino, palla dentro, una deviazione, palla alta Si allarga, bella la finta Poi va, dai Sposito che prova il tiro Di Grezio al terzo Di Sogliuzzo Bravo A farsi trovare pronto ora Derrico Sogliuzzo la riconquista, va in dribbling tra due Entra in aria E l'arbitro non assegna il calcio di rigore che pareva nettissimo per il Barano Tiro dalla distanza e sfiora l'incrocio il Casalnuovo Sogliuzzo la tiene, vada Farina Il portiere è solo, è puntuale, perde palla Matino Sirabella, molto bravo, Farina Baffarina La mette dentro Sirabella controlla Tiro, gol 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 di Sirabella Fischia l'arbitro Manzo Appena tre minuti sul calcio di rigore Per fallo di Billone Monti Tiro dalla distanza Grezio A tu per tu col portiere Segna il due pari Palla in aria Cade un giocatore Poi caso naturale Palla in aria Ancora caso naturale di testa Avanza Curso Ha conquistato bene palla Dribbling un altro Un tiro Gol Di Sogliuzzo Bravo A curso Sogliuzzo di testa Verso Cantelli Velocissimo Entra in aria Salta l'avversario Tiro Parata del portiere Ancora il Barano Vicinissimo al gol Buco In aria Defensa col sinistro La mette Bravo il portiere a deviarla Mattino La mette ancora dentro Bene Saltano In tanti Colpisce Caso naturale Ma naturale Un dribbling Un sombrero Poi ancora un dribbling Caso naturale Tiro Bravissimo Sogliuzzo la tiene Sogliuzzo la tiene Poi va da Cantelli La finta C'è solo Farina In aria Cantelli La mette per La mette per Tiro Gol Gol di Arcamone Arcamone 4 a 2 Cerca un compagno Un appoggio Buono L'1-2 con Sogliuzzo Tiro Palo Palo di Farina Spazio Va nello spazio Dei fare attenzione alla posizione Servito Arcamone Che entra in aria Calcia Alto Arcamone Puccinelli Ancora verso La torre scippa Che di testa Da caso naturale Ma è bravissimo Delrico E finisce Barano Che vince 4 a 2